L'uomo è risaputo che gli uomini discendono dalle scimmie, ma tu che pur di non prendere il telecomando sei disposto a lasciare la tv accesa su rete 4, tu che hai impresso la tua sagoma sul divano e ne vai anche fiero, tu che hai una simpatica collezione di 56 bottiglie a vota in macchina, sì, proprio tu discendi certamente dal bradipo. E questa ricetta farà proprio al caso tuo, dato che richiede quasi meno sforzo di scrollare alle storie di Instagram, perché sarà sufficiente avvolgere la pasta filo a forma di triangolo, racchiudendo il ripieno che preferisci, attendere che il forno faccia la parte difficile al posto tuo. A questo punto sarebbero già pronti per essere mangiati, ma tu puoi decorarli con la crema che preferisci e lo zucchero a velo, tanto sappiamo entrambi che non lo farai. Arrivano le parti più belle, quelle in cui ti diverti a distruggere tutto e a far sbrodolare il ripieno come se non ci fosse un domani, tanto la scarpetta con la lingua è considerata disciplina olimpica, seguici per altre ricette adatte a gente che ha poca voglia di fare cose. Ciao!